e gas a martello, domani il mitico barba in sé 400 molta attenzione, destra 2 in sinistra 2, ripeto, destra 2 in sinistra 2 vai, 150 a destra destra 4, lunga e molta attenzione, chicane entra a sinistra 300, attenzione, variante a roggia sinistra per destra 2 ripeto, sinistra per destra 2 100 prima di Lesmo 200 seconda di Lesmo 300 attenzione, chicane entra a sinistra chicane entra a sinistra 400 variante a scari lasciala andare bene in uscita lasciala andare bene in uscita così, così 400, attenzione, chicane entra a destra chicane entra a destra occhio, occhio, bloccando le ruote 400 parabolica e molta attenzione, stai a sinistra per la chicane entra a sinistra molta attenzione, stai a sinistra per chicane entra a sinistra 50 50 attenzione, chicane sinistra, destra 2 chicane, sinistra, destra 2 lì 200 chicane entra a sinistra 400 attenzione, destra 2 il sinistra 2 destra 2 il sinistra 2 destra 2 il sinistra 2 vai 150 vai 150 a destra stai a sinistra destra 4 lunga costa la bene larga e molta attenzione chicane entra a sinistra 300 attenzione, variante roggia ed è sinistra destra 2 ripeto, sinistra destra 2 100 prima di lesmo 200 seconda di lesmo 300 300 attenzione, chicane entra a sinistra 400 variante a scari 400 attenzione, chicane entra a destra chicane chicane entra a destra 400 parabolica molta attenzione stai a destra per chicane entra a sinistra ripeto stai adesso chicane entra a sinistra e adesso usciamo eh da destra giù tutto via 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 via